Un patto paese per il rilancio della sanità nazionale e un'accelerazione dei tempi di realizzazione del nuovo ospedale di Piacenza, il primo in Italia post covid. Sono i due temi centrali dell'intervento del ministro della salute Roberto Speranza che oggi per la prima volta a tre mesi e mezzo dall'emergenza coronavirus ha fatto visita alla città di Piacenza. È arrivato puntuale all'ospedale dove ha incontrato gli operatori sanitari che hanno combattuto questa battaglia e a cui ha espresso profonda gratitudine. Con lui Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, e l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini. A fare gli onori di casa il direttore generale dell'ASL Luca Baldino. Poi il ministro si è recato in municipio dove è stato accolto dal sindaco Patrizia Barbieri. La drammaticità di queste settimane ci ha fatto capire che il diritto alla salute va difeso ogni giorno, ha sottolineato. Serve un patto per rimettere al centro il servizio sanitario nazionale. I cittadini in questo passaggio drammatico hanno colto fin in fondo l'importanza del servizio sanitario nazionale. Piacenza è una delle realtà che ha pagato il prezzo più alto. La sua collocazione geografica molto prossima al primo epicentro del sud della Lombardia ha portato a pagare un prezzo enorme. La reazione anche qui dei sanitari, degli infermieri, dei medici è stata straordinaria e credo che le misure che sono state assunte in una piena condivisione tra i diversi livelli amministrativi e il governo nazionale hanno consentito di reagire. Quando avremo il nuovo ospedale? Al più presto, stiamo lavorando per accelerare. Il presidente della regione Bonaccina ha lanciato un monito, sono crollati gli accessi ai pronto soccorso ma guai a pensare che il virus sia sconfitto. Poi ha annunciato nuovi investimenti per la nostra provincia. Dobbiamo, lo dobbiamo a Piacenza, i piacentini, dobbiamo a tutte le famiglie, i lavoratori, gli imprenditori, i sindaci di qualsiasi bandiera politica. Abbiamo lavorato insieme tutti questi mesi drammatici e adesso vogliamo guardare, provare a guardare con fiducia al futuro dopo queste tragedie e quindi stiamo già lavorando per vedere una dote di investimenti oltre a quelli già decisi che valgono centinaia di milioni di euro per metterne in aggiunta altri, soprattutto quelli che possano anche con piccole e medie opere partire il prima possibile, perché ogni cantiere che apre sono persone che lavorano, imprese che possono essere impegnate e un'economia che rimette qualche euro nei portafogli delle persone.